BIM e BAM Ehi BAM, devo dirti una cosa veramente veramente importante Cosa c'è Bim? Oggi ho incontrato un animale incredibilmente speciale Un animale speciale? E quale sarebbe? Un animale bellissimo e leggero, con le corna Un animale leggero? Sì Un animale bellissimo? Sì Un animale con le corna? Sì, con le corna! Perché sei così sorpresa? Perché non avevo mai visto un animale del genere È un animale che quando lo vedi camminare puoi pensare che stia ballando Ballando? Come una principessa Ma quale animale è? Una gazzella Una gazzella? Una gazzella cammina molto delicatamente Ha le corna ed è bellissima La gazzella è veramente un animale molto speciale Una gazzella Una gazzella Una gazzella La gazzella vive con la sua famiglia in un branco Wow! Le corna della gazzella sono così belle! Che splendide corna! Guarda come la gazzella beve l'acqua Ecco un'altra gazzella Ecco un'altra gazzella Le gazzelle giocano a rincorrersi Guarda come la sua famiglia in un'altra gazzella Guarda Bim! Stanno correndo insieme! Guarda Bim! La gazzella sta mangiando! Buon appetito gazzella! Ecco la mamma gazzella e il suo piccolo Com'è carino il cucciolo della gazzella! Ci vediamo gazzella! Te l'avevo detto! Che cosa mi avevi detto Bim? Ti avevo detto che avevo incontrato un animale speciale oggi Sì, leggero Con le corna E bellissimo! Non bello come te Bam! Tu sei più bella di qualsiasi cosa del mondo! E' così divertente! Mi piace imparare cose sugli animali Amo tanto gli animali Tutti li amo, sai Amo tutti gli animali E' così divertente imparare cose sugli animali, non è vero? Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao a tutti! Chi vuole guardare, Tuli? Io! Io voglio vedere Charlie! Guardiamo, Olive! Noi, i tenerotti! Sooo Hehehehe So